Guardate lo sguardo quando entra in pedano. Sì, ha fatto un grande passo avanti rispetto agli anni scorsi, un grande cambiamento, è cresciuta tantissimo come atleta. Adesso la vediamo con il nastro. Sì, ha fatto un grande passo. Sì, ha fatto un grande passo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, uno, due. Molto, molto carina su questo esercizio, Giorgia. Con una musica già da grande. Sì, esatto. Peccato un errore su una maestria molto particolare che lei doveva eseguire. Purtroppo non è venuta perfetta.